Buongiorno a tutti, Roberto Pudu, agente immobiliare REMAX. Oggi siamo a Cagliari, siamo nella passeggiata coperta e stiamo organizzando la manifestazione dei giochi e nello specifico, dato che c'è anche passione per il risico, abbiamo preparato il risico gigante. Vi faccio vedere qualcosina in anteprima. Ok, tabellone del risico. Ecco, siccome in quanto appassionato di risico, Caralis Risico Club Cagliari. Abbiamo preparato i carmatini, per l'occasione saranno costruzioni Lego, i dadi, abbiamo anche un degno aiutante, colui con cui ho combattuto la finale dell'ultimo torneo e poi ci sono anche i miei piccoli aiutanti, due giocatori di risico, i miei figli, i faretti. Aspettiamo tanta gente questo pomeriggio a Cagliari. Se volete vedere come si gioca il risico, le strategie, beh, allora non vi resta che raggiungerci. Per il resto, buon risico a tutti. Roberto Pudu, agente immobiliare, per voi risico. L'ho detto, posso vendere anche la tua? No, posso vendere anche la tua. No, posso vendere anche la tua. No, posso vendere anche la tua. Grazie.